Nei giorni scorsi a Rovetta un incontro pubblico per parlare di scuola. Qual è l'obiettivo di questo appuntamento? Sì, abbiamo organizzato un'assemblea pubblica presso l'Istituto Scolastico per parlare delle novità che a Rovetta ci saranno sul fronte degli investimenti che riguardano le scuole. Abbiamo presentato in particolare tre progetti di intervento che verranno realizzati tutti nell'anno che è appena iniziato. Trattandosi di investimenti molto importanti che poi avranno dei riflessi sull'organizzazione della scuola, sia per quanto riguarda l'andamento corrente e anche per quanto riguarda poi l'evoluzione futura, abbiamo ritenuto utile informare le famiglie e tutti i cittadini di quello che sta capitando. In modo particolare abbiamo parlato quindi della ristrutturazione che interessa la scuola primaria sia sul fronte dell'antisismico che sul fronte dell'efficientamento energetico. Stiamo parlando di un investimento che va attorno ai 900 mila euro finanziato al 100% dallo Stato sui fondi del PNRR. Quindi ci saranno dei disagi a partire dall'inizio dell'estate perché ci saranno questi lavori. Però sono lavori importanti. Le nostre scuole sono sicuramente delle scuole che pur avendo ormai 40 anni sono ancora delle scuole sicuramente efficienti, buone. Però c'era la possibilità di ottenere questi fondi per fare ulteriori miglioramenti e quindi noi abbiamo ritenuto utile andare avanti e siamo riusciti a ottenere questi fondi. Quindi abbiamo poi parlato dell'investimento più importante della novità che è relativa alla realizzazione di una messa scolastica. Una messa scolastica che verrà realizzata fra l'edificio delle scuole elementari e l'edificio delle scuole medie. Nel luogo dove adesso c'è il monumento per la pace che verrà spostato e portato più avanti e quindi reso più visibile e quindi valorizzato. E' un investimento di 850.000 euro di cui 650.000 euro sempre sui fondi PNRR. La mensa sarà a servizio della scuola primaria e consentirà poi quindi un'organizzazione diversa del servizio scolastico e potrà anche diventare spazio utile per anche altre esigenze, altre iniziative. Pensiamo al CRE, pensiamo ad iniziative estive che possono essere organizzate in uno spazio come quello. Quindi con l'intervento della mensa si va verso anche una diversa organizzazione della settimana a scuola. Che novità aspettano le famiglie di Rovetta? Bisogna fare una premessa. La scuola e quindi l'istituto comprensivo ha la sua autonomia. Cioè è la scuola che decide come organizzare il servizio. Al comune spetta preparare gli spazi, rispondere alle esigenze, fare gli investimenti sui luoghi fisici. Quindi sarà l'istituto comprensivo che farà le scelte che riterrà più opportune. Ma l'amministrazione comunale, è bene dirlo, ha già fatto delle scelte per quanto la riguarda. Delle scelte ben precise. Cioè noi siamo convinti della necessità ormai di andare verso la settimana corta per la scuola primaria e il tempo prolungato per la scuola secondaria. A farla molto breve. Cinque giorni di scuola e il sabato si resta a casa. Come avviene in città, come avviene in tantissime altre realtà. E auspico che naturalmente si vada in questa direzione. Sicuramente, posso permettermi di dirlo, viste anche le richieste da parte delle famiglie, sulla scuola primaria sarà quello l'obiettivo. Non immediato, cioè non dall'anno scolastico 2023-2024, ma dall'anno scolastico 2024-2025, quando pertanto sarà chiuso il progetto di realizzazione della Mesa.